Per il Garda Trentino è appena andata in archivio un'altra stagione caratterizzata dal segno positivo. La crescita emerge con chiarezza dal report statistico annuale presentato nella sede di Garda Trentino S.p.A. a Riva del Garda. Nonostante il perdurare della difficile congiuntura economica, il trend dei flussi turistici nell'ambito cresce con continuità, a conferma della qualità del lavoro che coinvolge l'azienda per il turismo e tutte le forze in campo, grazie alla propensione a lavorare su strategie comuni e progetti di co-marketing. Per gli arrivi c'è stato un aumento del 4,4% rispetto ad un 2015 già di segno positivo, con il dato generale che si attesta a 830.000 unità. Per quanto riguarda le presenze, la crescita rispetto al 2015 è stata del 5,3% in generale, toccando quota 3.407.198, oltre 170.000 presenze in più rispetto al 2015. Il comparto alberghiero ha registrato un incremento del 3,7% degli arrivi e del 5,2% delle presenze, mentre quello extra alberghiero, campeggi esclusi, un aumento del 10,2% degli arrivi e del 6,5% delle presenze. La Germania mantiene saldamente la testa nella statistica dei flussi turistici stranieri, con oltre 1.600.000 presenze e una crescita del 7,8% rispetto al 2015. Rappresenta da sola il 47,12% del totale. Il 18,71% è invece costituito dal flusso di visitatori italiani. Dietro i due gruppi più importanti troviamo Regno Unito, Austria, Paesi Bassi, Svizzera e Repubblica Ceca, per un 2,3%. Diciamo innanzitutto che i dati e le presenze degli arrivi si manifestano buoni anche per quanto riguarda il dicembre, quindi nasce probabilmente una stagione nuova anche per il Garda Trentino. Anche il mese di dicembre ci ha dato grosse soddisfazioni, grazie sicuramente all'impegno che i vari comitati, che i comuni hanno intrapreso rispetto al Natale, rispetto all'animazione sostanzialmente sul nostro territorio. Quindi anche da questo punto di vista è un motivo di soddisfazione. I dati poi in generale sono buoni, è stata una stagione che è una stagione da record per quanto ci riguarda e per quanto riguarda sicuramente anche molti altri territori. Le influenze di questo, ne abbiamo già parlato durante l'anno, possono essere diverse. Sicuramente la grande capacità del territorio di innovarsi, dei nostri imprenditori, ma sicuramente anche qualche influenza di fattori esterni che creano un po' di instabilità su territori dedicati al turismo che probabilmente quest'anno hanno subito delle variazioni in negativo. Noi godiamo di questo momento, mi auguro che corrisponda al numero delle presenze degli arrivi anche un buon andamento economico, perché non sempre è così, non abbiamo da questo punto di vista dei riscontri di quanto l'ospite spende sul nostro territorio, però già il fatto che ci siano più ospiti è sicuramente un fatto positivo. Se a questo corrisponderà anche un buon fattore economico, mi auguro che le aziende colgano questo momento per innovarsi e per stare al passo con i tempi e con le richieste dei nostri turisti. E che quindi si possa affrontare un futuro in maniera abbastanza serena. Per quanto riguarda i mercati, naturalmente la Germania la fa un po' da padrone, ha tenuto l'Italia, è un po' in flessione l'Inghilterra dovuto probabilmente al calo anche dei voli su Verona, però si sta incrementando un po' l'est, è cresciuta la Svizzera, è cresciuta l'Austria e quindi siamo assolutamente soddisfatti che i nostri mercati vicini e quelli più sicuri sicuramente. Poi ci pensa Fiere Congressi a farci avere qualche presenza sicuramente da oltreoceano e questo non guasta e ci porta comunque a dei dati finali che vedono un record di presenze sul nostro territorio a 3.400.000 presenze, quindi con 830.000 arrivi, con una variante rispetto all'anno precedente di un 5%, ricordo che le percentuali da noi pesano, trattandosi di milioni, quindi con oltre il 5% di aumento non possiamo che essere soddisfatti. Mi auguro che anche la stagione 2017 ci porti le stesse soddisfazioni e si possa collaborare sul territorio con le istituzioni e con gli imprenditori al fine di far vedere il Garda Trentino sempre in luce più luminosa.